Hai mai sognato un matrimonio da favola? Sotto il cielo limpido delle isole eolie, Diletta Leotta ha vissuto il suo giorno perfetto. Vuoi scoprire tutti i dettagli di questa cerimonia indimenticabile? Preparati a rimanere senza fiato! Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al nostro canale, mettere like al video e lasciare un commento con la tua opinione su questo evento da sogno. Il 22 giugno, Diletta Leotta e Loris Carius hanno pronunciato il loro sit circondati da circa 160 ospiti tra VIP e volti noti. La splendida cornice del Terasia Resort di Vulcano ha offerto uno scenario mozzafiato, con una privacy totale per gli invitati. Tra i partecipanti spiccavano Elodie, amica intima della sposa, nel ruolo di Damigella d'Onore, e Eleonora Berlusconi come testimone. Altri volti celebri presenti includevano Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli, Alice Campello, Elena Barolo, Chiara Ferragni e Michelle Unziker. La Unziker, visibilmente commossa, ha pianto lacrime di gioia per la sua amica. Un momento particolarmente emozionante è stato l'ingresso di Lillo, il cagnolino di Diletta, che ha portato le fedi vestito con un elegante papione e un bavaglino a smoking, attraversando la cerimonia tra gli applausi e i sorrisi degli ospiti. Gli ospiti hanno potuto rinfrescarsi con gelati e bibite offerte da un chiosco chiamato Aria d'Amore, con la scritta ripetuta su ogni bicchiere, creando un'atmosfera magica e romantica. Diletta, raggiante in un abito di pizzo su misura creato da Atelier Eme, ha sfilato lungo la navata con un velo su cui spiccava la scritta All Uno Ever Wanted, la stessa frase che ha utilizzato per condividere le foto della cerimonia su Instagram. Il bianco, simbolo di purezza e amore, è stato il colore predominante, anche al White Party della vigilia. Ogni elemento decorativo, dai fiori alle luci, è stato pensato per evocare un senso di desiderio realizzato e sogni che diventano realtà, rendendo questa cerimonia un evento indimenticabile per tutti i presenti. Vuoi sapere di più su come si è conclusa questa giornata da favola? Cosa ne pensi dell'idea di avere un cagnolino come portafedi? Facci sapere! Lascia un like, iscriviti al canale e commenta qui sotto con i tuoi pensieri su questo matrimonio da sogno.